37 pari, viceve Silla, bene, va lì stessa ad attaccare, grande spalla di Miriam Silla, tutte lì sulla diagonale. Si va da Bosetti che fa i buchi per terra, lasciata lì col muro a uno, grande scelta di Micah Hancock. Attenzione, in qualche modo la palla ancora nel campo di Conegliano, ancora Silla, mamma mia la difesa a terra di Daldarup, poi Bosetti out, bombola d'ossigeno in arrivo in campo perché... Sì, veramente diventa molto difficile mettere a terra la palla nel campo di Novara che sta lavorando benissimo in difesa. Scambi di questa importanza, ancora set ball, questa volta per Conegliano. Bosetti, il muro di Paolo Egonu, 40 a 38 e attenzione perché questo può essere un set veramente importante nell'economia delle finali. Rebecca Piva al servizio sul 39 pari, abbondantemente record, almeno per quanto riguarda le partite di Ravenna, batte in salto Rebecca Piva, fortissimo, Ace! Ace di Rebecca Piva, ci pensa lei, 40 a 39. Attacca dalla seconda linea, Sironi, 40 pari, Sironi, 40 pari. Grigolo, velocissima! Assirelli alla battuta, Sainz bene in ricezione, Rimoldi cerca ancora Mabilo, pallonetto tenuto da Guidi, Assirelli al palleggio, forse falloso, protesta di Torino, ma la palla è ancora in gioco, Rimoldi, Pinto, Mabilo, Rimoldi, Pinto. Murata, Murata!